La terza edizione di Sportivamente Insieme 2013 fa centro. La manifestazione è organizzata dall'amministrazione comunale assessorato allo sport, con la collaborazione di società e gruppi sportivi sediatesi, punto educare attraverso la cultura dello sport. E i risultati ci sono. Giovedì 9 maggio è atteso il terzo e ultimo incontro formativo sul tema sport e alimentazione, in programma alle 20.45 all'auditorium della Biblioteca Civica di Seriate in Via Italia. Sinora è stata buona l'affluenza degli incontri. Circa 400 persone hanno preso parte agli appuntamenti formativi, che hanno avuto per protagonisti il difensore atalantino Guglielmo Stendardo, Marco Gaburro, allenatore Aurora Seriate e scrittore, e Monica Morandini. Mentre il secondo incontro ha avuto come protagonisti l'allenatore di marcia, il professore universitario Antonio Latorre e l'atleta maratoneta Nigilio Burifa. Giovedì il binomio sport e alimentazione per un corretto e sano stile di vita sarà illustrato da Enrico Arcelli, medico con specialità in medicina dello sport e scienze dell'alimentazione. Nonché professore in scienze motorie all'Università Statale di Milano. Ma si ricorda che a conclusione di questo percorso educativo si terranno iniziative sportive e la prima notte bianca dello sport prevista per giugno. Per informazioni contattare l'ufficio sport allo 035 304 354 o la cooperativa sport e cultura allo 035 300 503.